Parigi torna a nuotare nella Senna dopo cento anni. Era il 1923 l'anno in cui venne interdetta la balneazione nelle acque a causa dell'inquinamento. Questo giovedì 17 agosto invece è partito proprio dal fiume Parigino l'evento di prova di triathlon in cui le migliori triatlete del mondo si sono sfidate per qualificarsi alle Olimpiadi del 2024. Le atlete hanno ultimato il percorso che sarà lo stesso da affrontare nella gara olimpica. La vincitrice è stata la britannica Beth Potter che ha tagliato il traguardo per prima, seguita dalla francese Cassandre Beaugran. Parigi ha investito milioni di euro per depurare le acque e ora vuole aprire nel 2025 tre nuove aree balneabili per i residenti.